Sì, dopo tre giorni di condizioni davvero strutturali, hai avuto il vinto in Lanzarote nel match race event RC44 World Championship. Sì, è fantastico e è un vero credito per la squadra, perché è stato difficile arrivare al match racing dopo un po' di un break in monohull, e abbiamo dovuto lavorare molto, molto hard per arrivare al livello delle altre squadre, quindi sono davvero piaciuto con la squadra. Quale era il momento clave dell'evento? Credo che il momento clave era l'esterno, in semifinali, era il primo vinto contro Russell, e abbiamo iniziato molto bene, e abbiamo sempre arrivato alla top mark, quindi è stato molto, molto forte, ma sono davvero piaciuto con la squadra, e abbiamo avuto la scuola. ora si muoveremo durante la squadra, cosa aspettate dal prossimo step di l'evento? Sono molto felice, credo che il bambino è bene, è stato un giorno molto difficile, e sono molto strutturi condizioni, e credo che ci sono un numero di bambini che potrebbero vincere la squadra, quindi siamo felice, e dovremo andare fuori e vedere come va. per il prossimo episodio, saranno fokussati su RC44? Sì, credo che abbiamo una squadra in qui, credo che sia la migliore di monohull, è la migliore di monohull, è la migliore e attraversa tutti i buoni salatori, e ovviamente, tra l'altro, ci saranno fokussati molto multihull, a spendere un po' di tempo sui nuovi AC45, e siamo tutti molto fokussati per arrivare. Oggi abbiamo ricevuto press release su AC45, che stanno lavorando sull'evento, che aspettate per la nuova classe? Sì, sarà bello, sarà bello, sarà bello, sarà bello, è il tipo di bambini che attraversa la generazione di bambini, che è quello che vogliamo fare, i 45 e i 72. Sono bello, grazie.